incontriamo il drago della litosi eterna non ce la faremo mai disse zoe stiamo andando troppo piano ma non possiamo lasciare l'offiotauro concordò bessie nuotava accanto a me mentre correvamo seguendo il lungomare ci eravamo lasciati il centro commerciale alle spalle e puntavamo verso il golden gate ma era molto più lontano di quanto pensassi il sole aveva già cominciato a calare all'orizzonte non capisco esclamai perché dobbiamo essere là per il tramonto le esperidi sono le ninfe del tramonto rispose zoe possiamo entrare nel loro giardino solo quando il giorno diventa notte che succede se lo manchiamo domani è il solstizio d'inverno se perdiamo il tramonto di stasera dovremo aspettare quello successivo e per allora il consiglio degli dei sarà finito dobbiamo liberare la divina artemide stanotte o annabeth morirà pensai ma non lo dissi ci serve un'auto propose talia e con bessie come facciamo chiesi grover si fermò mi è venuta un'idea l'offiotauro può comparire in diversi bacini d'acqua giusto beh sì risposi cioè prima era nella baia di long island poi è spuntato fuori nell'acqua della diga di hoover e adesso è qui allora forse possiamo convincerlo a tornare nella baia di long island concluse grover e chirone potrebbe aiutarci a portarlo sull'olimpo ma lui stava seguendo me replicai se non ci sono io saprà dove andare muggì bessie malinconica posso posso mostrarglielo io si offrì grover andrò con lui lo guardai grover non era molto amante dell'acqua l'estate prima era quasi affogato nel mare dei mostri e non riusciva a nuotare molto bene con gli zoccoli io sono l'unico in grado di parlare con lui continuò è la cosa più sensata si chinò a dire qualcosa a bessie nell'orecchio il serpente mucca rabbrividì poi emise un muggito soddisfatto la benedizione delle selve disse grover dovrebbe aiutarci a viaggiare sicuri persi anche tu prega tuo padre chiedigli se può garantirci un viaggio sicuro per i mari non capivo come potessero riuscire a tornare a nuoto a long island dalla california ma del resto i mostri non viaggiavano nello stesso modo degli umani ne avevo avuto parecchie prove cercai di concentrarmi sulle onde sul profumo dell'oceano sul suono della marea papà chiamai aiutaci fa che lo fiotauro e grover arrivino sani e salvi al campo proteggili in mare una preghiera come questa ha bisogno di un sacrificio intervenne talia qualcosa di grosso ci pensai un secondo poi mi tolsi il cappotto persi disse grover sei sicuro la pelle di leone è parecchio utile l'ha usata anche ercole non appena lo disse capì lanciai un'occhiata a zoe che mi stava fissando seppi che era l'eroe che le aveva rovinato la vita che l'aveva fatta cacciare dalla sua famiglia e che non aveva mai accennato al suo aiuto ercole un eroe che ammiravo da una vita se sopravvivrò dichiarai non sarà per un mantello di pelle di leone io non sono ercole lo gettai nella baia e il cappotto tornò a essere una semplice pelle di leone che splendeva nella luce poi mentre cominciava ad affondare fra le onde sembrò sciogliersi come un raggio di sole sull'acqua si levò la brezza marina grover trasse un respiro profondo bene non c'è tempo da perdere saltò in acqua e cominciò subito ad affondare bessi gli scivolò accanto e si lasciò prendere per il collo siate prudenti raccomandai a entrambi lo saremo rispose grover ok bessi si va a long island è a est laggiù da quella parte bessi si slanciò in avanti cominciò a immergersi e grover disse non so respirare sott'acqua tanto perché tu lo sa glup e andarono a fondo sperai che la protezione di mio padre si estendesse anche ai dettagli secondari tipo respirare bene un problema risolto esclamò zoe ma come raggiungiamo il giardino delle mie sorelle talia ha ragione osservai ci serve una macchina ma qui nessuno può darci una mano a meno che non la prendiamo in prestito non mi piaceva quell'opzione insomma sì era una questione di vita o di morte ma era pur sempre rubare e ci saremmo fatti notare di sicuro aspettate disse talia si mise a frugare nel suo zaino in realtà c'è qualcuno che ci può aiutare a san francisco ho l'indirizzo qui da qualche parte chi domandai talia tirò fuori un foglio di quaderno spiegazzato e lo sollevò il professor chase il padre di annabeth dopo aver sentito annabeth lamentarsi del padre per due anni mi aspettavo che avesse come minimo le corna e i denti da vampiro di certo non mi aspettavo che indossasse un vecchio cappello da aviatore con tanto di occhialoni aveva un aspetto così strano con gli occhi deformati dalle lenti che facemmo tutti un passo indietro sotto il portico d'ingresso salve disse in tono amichevole siete qui per consegnarmi gli aeroplani io zoe italia ci scambiamo delle occhiate caute no signore risposi accidenti esclamò lui mi servono altri tre soap with camel giusto risposi anche se non avevo idea di cosa stesse parlando siamo degli amici di annabeth annabeth drizzò la schiena come se gli avessi appena passato la scossa sta bene è successo qualcosa nessuno di noi rispose ma dalle nostre facce dovette capire che c'era un problema parecchio grosso si tolse cappello e occhiali aveva i capelli castano chiaro simili a quelli di annabeth e intensi occhi marroni era un bel uomo immagino per l'età che aveva ma non si radeva da un paio di giorni e si era abbottonato male la camicia perciò un lato del colletto era più alto dell'altro sarà meglio che entriate non somigliava a una casa in cui si fossero appena trasferiti c'erano robot fatti di lego sulle scale e due gatti appisolati sul divano del salotto il tavolino era pieno di riviste e a terra c'era la giacca a vento di un bambino nell'aria alleggiava un profumo di biscotti al cioccolato appena sfornati una musica jazz proveniva dalla cucina sembrava una casa disordinata e felice il genere di posto abitato da una vita papà gridò un bambino mi sta smontando i robot bobby fece distrattamente il dottor chase non smontare i robot di tuo fratello bobby sono io protestò il bambino lui è matthew matthew disse il dottor chase non smontare i robot di tuo fratello va bene papà l'uomo si voltò verso di noi andiamo di sopra nel mio studio da questa parte tesoro chiamò una donna la matrigna di annabeth comparve nel salotto asciugandosi le mani in uno strofinaccio era una bella donna asiatica con i capelli sfumati di rosso raccolti in una crocchia chi sono i nostri ospiti chiese o esclamò il dottor chase questo è ci guarda un po interdetto frederick lo rimproverò lei hai dimenticato di chiedere i nomi ci presentammo da soli lievemente imbarazzati ma la signora chase sembrava davvero simpatica ci domandò se avevamo fame noi ammettemmo di sì e lei disse che ci avrebbe portato dei biscotti e anche di panini e qualcosa da bere cara sono venuti per annabeth spiegò il dottor chase mi aspettavo quasi di vederla trasformarsi in una pazza isterica al nome della figliastra ma la signora chase si limitò a storcere la bocca in un'espressione preoccupata va bene andate pure su nello studio vi porterò qualcosa da mangiare mi sorrise piacere di conoscerti persi ho sentito molto parlare di te al piano di sopra entrammo nello studio del dottor chase e io esclamai wow la stanza era tappezzata di libri ma furono i modellini da guerra ad attirare la mia attenzione c'era un tavolo enorme pieno di carri armati in miniatura e di soldatini che combattevano lungo un fiume dipinto d'azzurro con tanto di colline alberi e altra roba finta dei vecchi biplani pendevano con degli spaghi al soffitto inclinati ad angolature pazzesche come se fossero nel bel mezzo di un duello aereo il dottor chase sorrise sì la terza battaglia di ipr sto scrivendo un saggio sull'uso dei swap with camel per colpire a bassa quota le linee del nemico sono convinto che abbiano giocato un ruolo molto più importante di quanto venga loro attribuito staccò un biplano dallo spago e lo fece volare sopra il campo di battaglia mimando il rumore del motore e abbattendo i soldatini tedeschi o giusto risposi sapevo che il padre di annabeth era professore di storia militare ma non mi aveva mai detto che giocasse con i soldatini zoe si avvicinò a studiare il campo di battaglia le linee tedesche erano più lontane dal fiume il dottor chase la guardò sgranando gli occhi come fai a saperlo c'ero anch'io rispose lei in tono piatto artemide voleva mostrarci quanto fosse orribile la guerra il modo in cui i mortali combattevano gli uni contro gli altri e anche quanto fosse sciocca quella battaglia fu un inutile spreco il dottor chase aprì la bocca scioccato tu lei è una cacciatrice signore intervenne talia ma non è per questo che siamo qui abbiamo bisogno hai visto i sopp with camel esclamò il dottor chase quanti erano in che formazione volavano signore soggiunse di nuovo talia anna betè in pericolo attenzione catturata mise giù il biplano ma certo disse raccontatemi tutto non era facile ma ci provammo nel frattempo la luce del pomeriggio si stava affievolendo non ci restava molto tempo quando finimmo il dottor chase crollò sulla sua poltrona reclinabile intrecciò le mani la mia povera coraggiosa anna bett dobbiamo sbrigarci signore ci serve un mezzo di trasporto per il monte temal paes disse zoe e ci serve subito vi ci accompagno io faremmo prima usando il mio biplano ma c'è posto solo per due cavolo ha davvero un biplano domandai lo tengo giù al parco di chrissy field rispose lui con orgoglio è il motivo per cui mi sono dovuto trasferire qui il mio sponsor è un collezionista privato e ha alcuni dei migliori esemplari al mondo risalenti alla prima guerra mondiale mi ha permesso di restaurare il suo sopp with camel signore una semplice macchina andrà benissimo lo interruppe talia e sarebbe meglio che andassimo senza di lei è troppo pericoloso il dottor chase agrottò la fronte imbarazzato aspetta un minuto signorina anna bett è mia figlia pericoloso o meno io io non posso starmene merenda annunciò la signora chase entrando con un vassoio pieno di panini al burro di arachidi coca cola e biscotti appena sfornati con le gocce di cioccolata ancora calde io e talia ingollammo qualche biscotto mentre zoe continuava posso guidare io non sono giovane come sembro prometto di non distruggerle la macchina la signora chase aggrottò la fronte che sta succedendo anna bett è in pericolo rispose il marito sul monte tam li accompagnerei io ma a quanto pare non c'è posto per i mortali quell'ultima frase sembro costargli molto mi aspettavo che la signora chase si opponesse cioè quale genitore mortale avrebbe permesso a tre minorenni di prendersi la propria auto ma mi colse di sorpresa e annui allora sarà meglio che si sbrighino giusto il dottor chase saltò in piedi e cominciò a tastarsi le tasche le mie chiavi la moglie sospirò frederick mio dio perderesti anche la testa se non la chiudessi sempre in quel tuo cappello d'aviatore le chiavi sono appese al gancio vicino alla porta d'ingresso giusto esclamò di nuovo il dottor chase zoe afferrò un panino grazie a entrambi ora dovremmo andare corremmo fuori dalla porta e giù per le scale seguiti dai chase per si chiamò la signora chase mentre stava uscendo di ad annabeth dille che questa è sempre la sua casa per favore ricordaglielo lanciai un'ultima occhiata alla confusione del salotto i fratellastri di annabeth rovesciavano pezzi di lego e litigavano il profumo dei biscotti riempiva l'aria non era tanto male pensai glielo dirò promisi raggiungemmo la volkswagen decapottabile gialla nel vialetto il sole stava già calando avevamo meno di un'ora per salvare annabeth ma questo affare non può andare un po più veloce domandò talia zoe le scoccò un'occhiataccia non posso controllare il traffico mi sembra di sentire mia madre e mi riferisco a tutte e due commentai io chiudi il becco risposero all'unisono zoe zigzagava in mezzo al traffico del golden gate il sole stava calando all'orizzonte quando finalmente arrivamo nella contea di mary e uscimmo dall'autostrada le strade erano strettissime e si snodavano tortuose in mezzo a foreste e colline costeggiando ripide gole zoe non accennò a rallentare perché sento odore di pastiglie per la tosse chiesi eucalipti zoe indicò i grossi alberi che avevamo intorno quella roba che mangiano i koala le mangiano anche i mostri rispose lei adorano masticarne le foglie soprattutto i draghi i draghi masticano le foglie di eucalipto credimi se avessi l'alito dei draghi anche tu masticheresti eucalipto spiegò zoe non misi in dubbio le sue parole ma tegni gli occhi bene aperti sulla strada di fronte a noi si stagliava il monte temal paes immagino che in confronto ad altre montagne fosse piuttosto piccolo ma sembrava ingigantirsi mentre ci avvicinavamo così quello è il monte della disperazione domandai sì rispose zoe asciutta perché lo chiamano così rimase zitta per più di un chilometro prima di rispondermi dopo la guerra fra i titani e gli dei molti dei titani furono puniti e imprigionati crono fu fatto a brandelli e gettato nel tartaro il suo braccio destro il generale che guidava le sue armate fu rinchiuso lassù sulla vetta dietro il giardino delle speridi il generale dissi io le nuvole sembravano vorticare attorno alla cima come se il monte le attirasse e le facesse girare come una trottola che sta succedendo una tempesta zoe non rispose ebbi la sensazione che conoscesse benissimo il significato di quelle nubi e che non le piacesse per niente dobbiamo concentrarci intervenne talia la foschia è molto forte da queste parti quella magica o quella naturale chiesi entrambe le nuvole grigie turbinavano ancora più fitte sopra la montagna e noi continuamo a guidare proprio in quella direzione adesso eravamo usciti dalla foresta e percorrevamo ampi spazi aperti fatti di scogliere erba rocce e nebbia lungo una curva panoramica lanciai un'occhiata all'oceano e vidi qualcosa che mi fece sobbalzare guardate ma la curva finì e l'oceano scomparve dietro le colline cosa chiese talia una grande nave bianca risposi attraccata vicino alla spiaggia sembrava una nave da crociera lei sgranò gli occhi la nave di luke avrei voluto rispondere che non ero sicuro che poteva essere una coincidenza ma conoscevo la verità la nave attraccata su quella spiaggia era la principessa andromeda la nave demoniaca di luke ecco perché era passato per il canale di panama era l'unica rotta possibile dalla costa orientale alla california avremo compagnia allora commentò zoe cupa l'esercito di crono stavo per rispondere quando all'improvviso mi si drizzarono i capelli in testa talia gridò ferma la macchina subito anche zoe probabilmente aveva percepito qualcosa di storto perché pigiò sui freni senza protestare la volkswagen gialla fece due testa coda prima di fermarsi sul ciglio della scogliera fuori talia aprì lo sportello e mi spinse con violenza rotolammo insieme in strada e un secondo dopo boom il lampo di un fulmine e la volkswagen del dottor chase esplose come una granata giallo canarino probabilmente sarei rimasto ucciso dalle schegge se non fosse stato per lo scudo d'italia che apparve a proteggerci udì un rumore come di pioggia metallica e quando aprì gli occhi eravamo circondati dai rottami parte della macchina si era conficcata nell'asfalto il cofano fumante stava roteando su se stesso la strada era cosparsa di pezzi di carrozzeria gialla deglutì per scacciarmi il sapore di fumo dalla bocca poi guarda italia mi hai salvato la vita e per mano di un genitore un altro dovrà perire mormorò lei maledetto vuole distruggere me me mi ci volle un secondo per comprendere che stava parlando di suo padre ehi quella non era una folgore di zeus impossibile e allora di chi era domandò talia non lo so zoe ha pronunciato il nome di crono forse lui talia scosse la testa con un'espressione arrabbiata e sbigottita no non è andata così aspetta esclamai dov'è zoe zoe balziamo in piedi e corremmo verso la macchina esplosa dentro non c'era nulla e nemmeno in strada in nessuna direzione guardai in fondo alla scogliera nessuna traccia zoe gridai poi mi sentii tirare per il braccio ce l'avevo accanto taci sciocco vuoi svegliare l'adone intendi dire che siamo arrivati ci siamo quasi rispose lei seguitemi dall'altra parte della strada la nebbia si raccoglieva in fitti strati zoe ne attraversò uno e in un attimo svanì io e talia ci scambiamo uno sguardo concentrati su zoe mi consiglio lei la stiamo seguendo entra nella nebbia e tienilo a mente aspetta talia quello che è successo giù al molo delle barche il discorso della manticora e del sacrificio non mi va di parlarne tu non avresti mai no lei esitò ero solo scioccata tutto qui non è stato zeus a mandare quella folgore sulla macchina è stato crono sta cercando di manipolarti di farti arrabbiare con tuo padre lei trasse un respiro profondo persi lo so che stai cercando di tirarmi su di morale e ti ringrazio però ora sbrighiamoci dobbiamo andare entrò nella nebbia nella foschia e io la seguì quando la nebbia si dileguò era ancora sul fianco della montagna ma la strada era sterrata l'erba era più fitta il tramonto disegnava una fascia rosso sangue sul mare la cima della montagna adesso sembrava più vicina circondata da un turbine di nuvole temporalesche e di potere allo stato puro c'era un solo sentiero proprio davanti a noi e si snodava attraverso un prato rigoglioso di ombre e fiori il giardino del crepuscolo proprio come lo avevo visto in sogno se non fosse stato per quel drago enorme il giardino sarebbe stato il posto più bello che avessi mai visto l'erba risplendeva della luce argentea della sera e i colori dei fiori erano così brillanti che quasi luccicavano nella notte un sentiero di ghiaia di marmo nero conduceva ai due lati di un melo immenso i cui rami scintillavano di pomidoro e non in senso poetico intendo proprio dire doro non so spiegare come mai fossero così allettanti ma non appena ebbi avvertito il loro profumo capì che un solo morso di quei frutti sarebbe stato il cibo più delizioso che avrei mai potuto assaggiare i pomi dell'immortalità spiegò talia il dono di nozze di zeusa era avrei tanto voluto coglierne uno se non fosse stato per il drago attorcigliato attorno all'albero non so a che cosa pensate quando dico drago qualunque cosa sia non è abbastanza spaventosa il corpo di serpente era grosso quanto un razzo spaziale e luccicava di scaglie ramate aveva più teste di quante riuscissi a contarne come se qualcuno avesse fuso insieme un centinaio di pitoni micidiali sembrava addormentato le teste riposavano nell'erba arrotolate come un grosso cumulo di spaghetti giganti con tutti gli occhi chiusi poi le ombre di fronte a noi cominciarono a muoversi si udì un canto bellissimo innaturale come di voci dal fondo di un pozzo feci per sguainare vortice ma zoe mi bloccò la mano delle figure si materializzarono scintillando erano quattro giovani donne che somigliavano molto a zoe indossavano tutte un candido chitone greco avevano la pelle color caramello e lucidi capelli neri sciolti sulle spalle era strano ma non mi ero mai reso conto di quanto fosse bella zoe finché non ebbi visto le sue sorelle le esperidi erano proprio come lei splendide e probabilmente molto pericolose sorelle esordi zoe non vediamo alcuna sorella rispose gelida una delle ragazze vediamo due mezzo sangue e una cacciatrice e ciascuno di essi morirà presto vi sbagliate feci un passo avanti nessuno di noi morirà le ragazze mi studiarono i loro occhi erano come rocce vulcaniche lucidi e completamente neri per seus jackson disse una sì riflette un'altra non vedo come possa essere una minaccia chi ha detto che lo sono la prima esperide si lanciò un occhiata alle spalle verso la cima della montagna essi ti temono sono scontenti che lei non ti abbia ancora ucciso indicò talia sono stata tentata alle volte ammise talia ma no grazie è un amico qui non ci sono amici figlia di zeus replicò la ragazza solo nemici tornate indietro non senza annabeth rispose talia e artemide aggiunse zoe dobbiamo salire sulla montagna ti ucciderà lo sai disse la ragazza non puoi competere con lui artemide deve essere liberata insistette zoe lasciateci passare la ragazza scosse la testa tu non detieni più alcun diritto in questo luogo non dobbiamo fare altro che levare le nostre voci e svegliare l'adone non mi farà alcun male replicò zoe no e che ne sarà dei tuoi cosiddetti amici poi zoe fece l'ultima cosa che mi sarei aspettato gridò ladone svegliati il drago si mosse luccicando come una montagna di monetine le esperidi strillarono e si sparpagliarono quella che sembrava il capo disse sei pazza non hai mai avuto coraggio sorella ribatte zoe è questo il tuo problema il drago ladone adesso si contorceva dibattendo le sue innumerevoli teste con le lingue che saggiavano l'aria zoe fece un passo avanti con le braccia alzate zoe no esclamò talia non sei più una esperide ti ucciderà ladone è addestrato per proteggere l'albero spiegò zoe costeggiate il bordo del giardino salite sulla montagna fin tanto che io rappresento la minaccia maggiore dovrebbe ignorare voi dovrebbe osservai non è molto rassicurante non c'è altro modo replicò lei anche unendo le nostre forze non riusciremmo a sconfiggerlo ladone aprì le sue bocche il suono di un centinaio di teste che si bilavano all'unisono mi provocò un brivido lungo la schiena e questo successe prima che il suo alito mi investisse l'odore era come un acido mi fece bruciare gli occhi accapponare la pelle drizzare i capelli mi ricordai di quella volta in cui un ratto era morto fra le intercapedini del nostro appartamento a new york in piena estate il tanfo era simile ma cento volte più intenso e si mescolava all'odore dell'eucalipto masticato in quell'istante giurai a me stesso che non avrei mai più chiesto una pastiglia per la gola all'infermeria della scuola volevo sguainare la spada ma poi ricordai il mio sogno e di come ercole avesse fallito il suo attacco diretto decisi di fidarmi del giudizio di zoe talia si lanciò a sinistra io partì a destra zoe andò dritta verso il mostro sono io piccolo mio esclamò zoe è tornata ladone scattò in avanti poi subito indietro alcune bocche si chiusero altre continuarono a sibilare il drago era confuso nel frattempo le esperidi si dileguarono con uno scintillio fra le ombre la voce della più anziana bisbigliò sciocca un tempo mangiavi dalla mia mano continuò zoe parlando con voce sua dente e continuando ad avanzare verso l'albero d'oro ti piace ancora la carne d'agnello gli occhi del drago luccicarono io e talia avevamo percorso circa la metà del giardino davanti a noi scorgevo un unico sentiero roccioso che saliva fino alla vetta nera della montagna la tempesta turbinava e roteava attorno alla cima come se questa fosse l'asse del mondo eravamo quasi riusciti a lasciarci il prato alle spalle quando qualcosa andò storto percepì che l'umore del drago era cambiato forse zoe si era avvicinata troppo forse ladone si era accorto di aver fame qualunque fosse la ragione si scagliò su di lei duemila anni di addestramento le permisero di restare in vita schivò una serie di fauci pronte ad azzannarla e rotolò sotto un'altra districandosi fra le teste del drago e correndo verso di noi trattenendo i conati di vomito per l'orribile fiato del mostro sguainai vortice per correre in suo aiuto no gridò lei con il fiato corto scappa il drago la zannò su un fianco e zoe gridò talia scoprilegida ladone si bilò sfruttando quell'attimo di indecisione zoe ci superò di slancio e corse su verso la montagna con noi dietro il drago non cercò di inseguirci soffiò e pestò le zampe a terra ma immagino che fosse bene addestrato a sorvegliare l'albero non si sarebbe mai allontanato nemmeno per l'appetitosa prospettiva di sbranare degli eroi mentre correvamo su per la montagna le esperidi ripresero il loro canto del crepuscolo la musica non mi sembrava più tanto bella ora somigliava più alla colonna sonora di un funerale sulla cima della montagna c'erano delle macerie blocchi di marmo e di granito nero grossi come case colonne spezzate statue di bronzo mezzo disciolte le rovine del monte otri bisbigliò talia sgomenta sì confermò zoe non erano qui prima brutto segno cos'è il monte otri domandai sentendomi il solito idiota il monte fortezza dei titani rispose zoe nella prima guerra olimpo e otri erano le due capitali rivali del mondo otri era trasali stringendosi un fianco sei ferita dissi fa vedere no non è niente stavo dicendo nella prima guerra otri fu rasa al suolo ma come fa a essere qui talia si guardò attorno con circospezione mentre avanzavamo fra le macerie superando blocchi di marmo e architravi spezzati si sposta nello stesso modo dell'olimpo esiste sempre ai margini della civiltà ma il fatto che sia qui su questa montagna è un pessimo segno perché questa è la montagna di atlante rispose zoe il luogo dove sorregge si bloccò la sua voce era rotta dalla disperazione il luogo in cui un tempo sorreggeva la volta del cielo eravamo arrivati sulla vetta a pochi metri di distanza le nuvole grigie roteavano in un denso vortice creando un imbuto che quasi toccava terra quasi perché invece poggiavano sulle spalle di una ragazzina di 12 anni con i capelli ramati e una veste argentata a brandelli artemide le gambe incatenate alla roccia ecco cosa avevo visto nel mio sogno artemide non era stata costretta a sorreggere il tetto di una caverna quello era il tetto del mondo mia signora zoe fece percorrere da lei ma artemide disse fermi è una trappola dovete andarvene subito aveva la voce tirata ed era zuppa di sudore non avevo mai visto soffrire una dea prima di allora ma il peso del cielo era evidentemente troppo per artemide zoe stava piangendo corse da lei nonostante le sue proteste e cercò di strappare le cateni una voce tonante parlo alle nostre spalle che scena toccante ci voltammo il generale era lì nel suo completo di seta marrone al suo fianco c'erano luke e una decina di donne drago con il sarcofago d'oro di crono annabeth era in piedi accanto a luke aveva le mani legate dietro la schiena e un bavaglio sulla bocca luke le puntava la spada alla gola incrocia il suo sguardo con un migliaio di domande negli occhi il messaggio che lei mi stava mandando però era soltanto uno scappa luke ringhiò talia lasciala andare il sorriso di luke era debole e pallido aveva un aspetto perfino peggiore di tre giorni prima a washington questa è una decisione che aspetta al generale talia ma è bello rivederti lei gli rispose con uno sputo il generale ridacchiò alla faccia dei vecchi amici e tu zoe ne è passato di tempo come sta la mia piccola traditrice mi divertirò a ucciderti non rispondere gemette artemide non lo sfidare aspettate un secondo esclamai lei è atlante il generale mi guardò e così anche il più stupido degli eroi riesce finalmente a capire qualcosa si sono atlante il generale dei titani e il terrore degli dei congratulazioni ti ucciderò fra un momento quando avrò finito con questa spregevole ragazzina non fare del male a zoe gridai non glielo permetterò il generale fece un verso di scherno non hai alcun diritto di interferire piccolo eroe è una questione di famiglia aggrottai la fronte una questione di famiglia si confermo zoe cupa atlante è mio padre roba mia mia